E per ora è tutto, ma per altre notizie e per aggiornamenti vi rimando alla prossima edizione del TG5, all'una quella della notte. Adesso ci fermiamo qui, le previsioni del tempo come sempre e poi il film Jurassic Park. Buona serata. I Meteo presentato da... The Unexpected Classic Benvenuti a Meteo 5, le previsioni per domani. Pressione in calo sul settore occidentale dell'Europa. Il sistema frontale, ora sull'Atlantico, raggiungerà le regioni nord-occidentali della nostra penisola nella mattinata di martedì. La notte, banchi di nebbia su Lombardia e Veneto, poco nuvoloso, su Piemonte e Riviera di Ponente. Al mattino, nubi su Piemonte, Lombardia e Liguria, poco nuvoloso, su Friuli, Sud Sardegna e Ovest Sicilia. Nel pomeriggio, deboli piogge sul settore nord della Lombardia e Sud Sardegna, nubi in aumento sul Medio e Alto Tirreno. La sera, nubi sul Triveneto, rovesci e temporali in serata, su Basso Piemonte e Liguria, piogge sul Lazio e Toscana. Dati servizio meteo e nautica, elaborazioni Epson Computer. Il meteo è stato presentato da Vilar Betta, the Unexpected Classic.